Cari amici di Unibet Italia, campionato finito, noi qui a Roma siamo ancora un po' frastornati per l'addio per quella serata evento così struggente, l'addio al calcio di Francesco Totti, quindi non avremmo in teoria neanche il tempo di parlare delle vostre inutili finali di Champions League, queste partite che contano davvero poco rispetto a quella del cuore, scherzi a parte, a Cardiff, i Merengues vanno per la dodicesima, mamma mia, Champions League l'avversaria, cioè i bianconeri con l'ex Zidane vorrebbero invece vendicare la sconfitta con la Barcellona di Berlino quando la Juventus era ancora outsider e adesso invece dovrà far vedere che per il triplet è finalmente matura, una serie di pronostico per me ce la fa, la Juventus ce la fa, i rigori magari con Buffon che la Champions League non l'ha mai vinta, anche protagonista, quindi Coppa per Allegri che sarebbe proiettato proprio nell'affirmamento dei migliori allenatori a livello internazionale, ammesso che già non lo sia, grazie a voi tutti, speriamo di sbagliare, ciao, a presto, a dare il bersaggia. A presto, a presto, a presto.